L'unità cinofila antiveleno dei carabinieri forestali è intervenuta presso il parco del campo di aviazione di Fano per la bonifica dell'aria da eventuali esche avvelenate. L'intervento è stato richiesto dal gruppo carabinieri forestali di Pesare Urbino in seguito al ritrovamento a distanza di tempo di un'esca avvelenata con metaldeide, sostanza tossica che può provocare la morte dell'animale una volta ingerita. Gli animali sotto gli occhi vigili del conduttore, dei militari, del nucleo investigativo hanno attentamente ispezionato l'area verde compresa tra via del fiume e via della colonna, nonché il boschetto piantato nell'ambito dell'iniziativa Un Bosco per la Città. Attraverso l'indagine non sono emerse ulteriori esche avvelenate, ma sono state avviate le procedure ad individuare i responsabili del rilascio che, secondo il codice penale, costituisce reato. Il ritrovamento di esche o animali avvelenati prevede l'attivazione di un preciso protocollo messo a punto dalla prefettura, con l'obbligo di tempestivo avviso al servizio veterinario dell'Asure e al sindaco, i quali devono provvedere rispettivamente alla tipizzazione e analisi del campione tramite l'istituto zooprofilattico. Per contrastare questo fenomeno, l'unità cinofila antiveleno, istituita presso il reparto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ha predisposto l'attivazione di una squadra composta da un conduttore e due cani propositamente addestrati in Spagna, in modo da individuare e rimuovere boccone e carcasse avvelenati con qualsiasi sostanza tossica, salvando così molti animali domestici e selvatici da morte sicura.